I lavori della giuria del fotoclub La Chimera, che sceglieranno le fotografie del trofeo Chimera e del trofeo Comanducci. Questo vorrà essere l'inizio di una serie di trasmissioni che andranno in onda su questa televisione e che cominceranno tra breve per rappresentare tutto ciò che oggi è la fotografia. E quindi perché c'è stato un grosso salto negli ultimi anni dalla fotografia, diciamo come si dice, analogica impropriamente però, alla digitale e quindi ecco c'è un stato. E quindi noi vorremmo rappresentare un po' tutto ciò che è un po' la storia della fotografia, un po' la storia della nostra città. E quindi ecco, e ora Glauco vorrei che tu dicessi un po' quello che noi vorremmo fare. Già questo, siamo quasi alla fine dell'anno, l'ultimo impegno del 2017, il 26esimo trofeo Chimera e il terzo premio Piero Comanducci. Già questo dà, diciamo, il polso della situazione, cioè noi in tutto l'anno abbiamo fatto 12 mostre, una al mese più le foto antiquarie e in questo momento naturalmente poi portiamo avanti il nostro archivio. E quindi io credo che le cose da dire siano tante e proprio anche facendo questo confronto tra la fotografia chimica, io preferisco chiamarla chimica, la vecchia pellicola che si sviluppava con gli acidi, piuttosto che la fotografia digitale. Il confronto è ancora aperto, anche qui siamo nell'ambiente, stiamo facendo la giudizia del concorso, però siamo nel Fotoclab dove c'è esposta la mostra del fabbricone, la storia del fabbricone. E qui abbiamo un esempio della fotografia chimica e della fotografia digitale. Proprio perché queste fotografie che sono esposte sono tutte fotografie che hanno più di 50 anni e quindi fatte con il vecchio sistema e al tempo stesso anche fotografie digitali che ci hanno permesso di ricostruire l'archivio. Quindi i nostri impegni sono tanti, faremo a breve, ci riuniremo per decidere il calendario del 2018 e sicuramente sarà molto impegnativo e interessante come sempre.